Il buchello vuoi rotondo, cascante? Non è... Si è messi bene. Cioè il classico buchello è quello che è da lancio. Buchello è sposo, è così. Oh, una cosa che mi è venuta in mente, ma porterà male fare con i fiori dei morti il buchello? Sono allergico. No! Alla Federica li fiava. Sono, ahimè, allergica a tutto ciò che riguarda la primavera, quindi anche i fiori. Per il ristorante opterei per, se è possibile, prendere comunque quei fiori che abbiamo lì e metterli in una certa maniera al ristorante. Tieni presente all'altare della chiesa, in genere lo si lascia in chiesa. Certo, sì. Non mi piace il fiore, non mi piace la pianta, non mi piace mangiare con i fiori sul tavolo.